e concludiamo con questo terzo appuntamento un piccolo racconto che ho voluto regalare su alan ford un fumetto che io amo molto che ha avuto anche dei disegnatori che hanno disegnato pochi numeri però che sono stati fondamentali per la serie come omar pistolato come varco e soprattutto giovanni romanini che aveva un tratto che io amavo in particolare anzi se volete recuperare ci sono anche alcuni numeri disegnati proprio dal solo giovanni romanini credo che siano i numeri 121 tarlomania e poi ci fu anche un di così il numero 124 e ce ne sono ancora un paio credo giovanni romanini all'epoca di magnus passava lechine quindi aiutava devo dire che quando max bunker gli diede la possibilità di fare dei numeri tutti i suoi ha portato davvero a casa delle tavole meravigliose ci ha regalato delle tavole pazzesche però però noi stavamo parlando già della produzione più recente abbiamo già avvarcato il numero 300 è successo poi quello che ha determinato un po il futuro di alan ford cioè il gruppo tnt si è un po sparpagliato qua e là si sono separati tutti i componenti alan ford si è sposato con minuet macon una francesina e insomma intorno a tutto questo tornado incredibile che ha investito il fumetto devo dire che quello che è l'attuale disegnatore dario perucca non ha fatto altro che migliorare che diventare un un signor disegnatore ancora oggi le storie sono ancora scritte da da max bunker che in questi ultimi anni ci sta regalando storie un po surreali devo dire storie un po diverse da da quello che era forse lo spirito iniziale di di alan ford mai ancora in edicola quindi un fumetto che potete ancora trovare nelle edicole italiane un fumetto che ha attraversato davvero tantissime fasi e che ha raccontato un italia attraverso i decenni ricordiamo dal 1969 fino al 2022 ancora in edicola con storie che a qualcuno forse non piacciono perché sono storie completamente diverse da da quelle di 10 20 30 anni fa anche 40 anni fa sono avventure totalmente diverse alan ford minuet macon e ogni tanto compaiono i vecchi personaggi ecco forse quello che al pubblico allo zoccolo duro di alan ford non va tanto giù credo che sia proprio questo aver messo un po da parte i personaggi di contorno ma soprattutto i personaggi che facevano parte del gruppo tnt quello quello vero quello originale